E veniamo alla nostrissima vicenda dello svincolo della tangenziale ad Agnano, ormai chiuso da settimane. Al di là delle perplessità del perché ovviamente non si risolva il problema della viabilità con le riparazioni che dovrebbero essere portate a termine, c'è un palleggiamento di responsabilità tra la società tangenziale e il comune di Napoli, c'è il problema dei residenti, dei pendolari, blocchi stradali che inesorabilmente comportano delle ricadute negative sull'aspetto della vita commerciale di tutta la zona ma anche sulla viabilità fino a fuori grotta. E al momento non si vede alcuna via di uscita. Saraniola. Chiuso ormai da più di un mese lo svincolo di diramazione definito Italia 90 della tangenziale di Via Nuovo Agnano. Una sbarra impedisce l'ingresso e il tabellone luminoso invita gli automobilisti a prendere la tangenziale pochi metri più avanti. Fin qui nulla di strano, si potrebbe pensare a dei normali lavori di manutenzione. Dal momento che per chiunque abbia percorso la bretella era evidente lo stato di abbandono. Segnalettico orizzontale praticamente quasi cancellata, alberi e rami che invadevano le corsie, limitando anche la visibilità agli automobilisti. Con le telecamere del VG21 abbiamo scavalcato la barriera per documentare attraverso le immagini la reale situazione. E quello che vediamo è un totale stato di abbandono e degrado, fogliame, rami spezzati e anche qualche sacchetto di spazzatura qui e lì. A questo punto non resta che capire di chi sia la responsabilità. Abbiamo interpellato la società SPA tangenziale di Napoli che in una nota ci ha specificato di non essere responsabile di ciò, ma di aver messo in essere una richiesta del Comune di Napoli. Infatti il riferimento appunto al ramo di svincolo in questione denominato Italia 90 in una nota spiegano, non rientra nelle competenze della nostra società, poiché lo stesso fa parte della viabilità ordinaria metropolitana, gestita quindi dal Comune di Napoli. Per una maggiore informativa si deve precisare che il punto di inizio di competenza della tangenziale di Napoli SPA è indicato con un'apposita targa segnaletica posta lungo i rami dello svincolo e riportante la dicitura inizio tratta di competenza.